ciao oggi vi voglio far vedere una delle nostre vetture che è dedicata al noleggio a medio termine quel servizio che abbiamo per la gente che ha bisogno di vetture per un periodo limitato da un mese in su ma non ha voglia di acquistarla perché sta aspettando una vettura perché ha degli impegni di lavoro bene noi diamo per queste persone un prodotto fresco in ordine con poche migliaia di chilometri e sempre efficiente in questo caso per esempio è una ford kuga del 2021 con poco meno di 50.000 chilometri andiamo a vederla insieme ford kuga 1500 diesel eco blu titanium business due ruote motrici 120 cavalli fari fendinebbia sensori di parcheggio davanti e dietro cerchi in lega un'abitabilità interna di tutto rispetto una macchina per famiglia vedere all'esterno che è tenuta benissimo del marzo 2021 6 airbag una macchina con climatizzatore infotainment navigatore accensione senza chiave 46.000 900 chilometri circa anche all'interno è tenuta perfettamente tanto spazio a disposizione un cambio manuale 6 marce consuma pochissimo perché il consumo medio è 5,6 litri per 100 chilometri per un utilizzo medio venite a vederla da noi come tante altre occasioni non non è non 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 Grazie a tutti.